Il contatto per otto minuti. Grazie Presidente. Io credo che sia pure oggi una giornata nella quale l'intervento in dichiarazione di voto è su un tema prettamente tecnico. Non si possa far finta di niente. Non si possa ignorare il clima d'avanspettacolo, il tragico clima d'avanspettacolo che ha purtroppo dovuto vedere quest'aula nella giornata di ieri. Non sono neanche passate 24 ore da una giornata nella quale l'intera aula del Parlamento ha fatto una pessima figura davanti non solo al popolo italiano, ma tutta quell'Europa che ci ha guardato certamente non perché eravamo sovranisti o meno, ma che ci ha guardato perché il mercimonio che ha caratterizzato certe fasi e certi momenti della giornata e delle ore di ieri è veramente una pagina nera nella storia della nostra Repubblica. Quindi non potevo fare a meno di ricordare come ieri abbiamo visto delle cose inenarrabili. Ieri abbiamo dovuto purtroppo anche sentire un Governo che vorrebbe modificare la legge elettorale, che vorrebbe rendere il caos addirittura stanziale attraverso la legge proporzionale. Dopo aver visto e sentito queste cose, signor Presidente e signori del Governo, oggi dobbiamo dare o dovremmo dare l'assenso allo scostamento di bilancio. Ebbene, noi signor Presidente lo faremo, lo faremo con quel senso di responsabilità che abbiamo non verso il Governo, con quel concetto di responsabilità che non ha niente a che vedere con il concetto di responsabili o meglio di irresponsabili che ha caratterizzato la giornata della evitata crisi di Governo di ieri, ma lo faremo per quel senso di responsabilità verso quei lavoratori italiani dipendenti ed autonomi, verso quelle partite IVA, quei professionisti che grazie alla mala gestione del lockdown, grazie alla incapacità di poter garantire delle regole di sicurezza che avrebbero permesso a tutti di restare aperti e di lavorare, grazie appunto a questi lockdown noi oggi siamo costretti a indebitarci ulteriormente per garantire almeno un adeguato ristoro alle nostre partite IVA. Vedete, siamo di fronte oggi ad una barriera che stiamo per andare a sfondare, la barriera dei 170-175 miliardi di indebitamento che rappresentano un macigno enorme per i nostri figli, per i nostri eredi e quello che è peggio è che questa marea di miliardi che mai avremmo pensato di dover utilizzare non viene nemmeno minimamente investita in misure strutturali, ma viene di fatto per lo più impiegata in bonus assistenziali. Quindi una situazione davvero pesante per la quale però perlomeno siamo riusciti ad ottenere qualche assicurazione dalla maggioranza sul fatto che il prossimo decreto, il decreto Ristori Quinques, il prossimo decreto che impiegherà i 32 miliardi che noi oggi autorizzeremo, sarà un decreto che perlomeno recepisce parte delle proposte che il centrodestra ha tutto unito che i fratelli d'Italia da tempo sta chiedendo, proposte inerenti al fatto che bisogna porre un freno, bisogna porre un limite, bisogna superare la distinzione tra lavoratori garantiti e lavoratori non garantiti. Tutti i lavoratori autonomi o dipendenti hanno diritto e dignità di essere trattati a livello assistenziale, previdenziale, fiscale nello stesso modo. Abbiamo anche ottenuto, proprio oggi pomeriggio, nel corso dell'audizione in Commissione Bilancio insieme al mio collega Calandrini, abbiamo ottenuto dal Ministro Gualtieri un impegno, l'impegno di finalmente parificare alle altre partite IVA e agli altri lavoratori i professionisti. Saremo vigili per vedere se nel ristori Quinquest finalmente i ristori, i contributi a fondo perduto arriveranno anche ai professionisti. Il Ministro si è impegnato oggi in audizione, lo aspettiamo al Varco nelle prossime settimane. Siamo felici che sembra tra le promesse ci sia il superamento dei codici a teco, questa logica che di fatto ci ha impedito di poter davvero rispondere a tutte le imprese, a tutte le aziende che hanno dovuto subire il lockdown. Siamo felici che si sia capito, dopo mesi che il centrodestra lo dice, si sia capito che non aveva senso riferirsi unicamente nel riconoscere i contributi e i ristori al mese di aprile del 2020, il rapporto al 2019, che escludeva innanzitutto tutto il settore turistico, gli agenti di commercio, coloro che hanno bilanci infranuali, in sostanza escludeva gran parte delle imprese dai benefici introdotti, o meglio dagli indennizi che erano stati introdotti. Quindi accettiamo queste promesse, speriamo che siano reali, speriamo che il riconoscimento dei costi fissi sia un altro paradigma che ispira il governo nel nuovo decreto Ristori Quinques. Serve però, e utilizzo gli ultimi due minuti che dovrebbero aspettarmi, servono però un cambio di passo. Apprezzo, quanto detto anche dalla collega Conzatti, da Italia Viva, che forse, mi auguro, abbia la forza di portare qualche nota maggiore nella maggioranza, se ancora lo è, non lo è, non lo abbiamo capito, ma comunque apprezziamo che ci sia qualcuno che insieme a noi chiede misure strutturali, ci sia qualcuno che chiede maggiori investimenti pubblici. Mi domanda dove è finita la sinistra. È rimasta una sinistra capace solamente di guardare i redditi di cittadinanza o c'è ancora una sinistra che si ricorda che gli investimenti pubblici in certe fasi economiche e storiche dovrebbero essere un punto di riferimento per la ripresa del Paese? Ricordo le riforme della giustizia, del fisco. Senza questi interventi strutturali, signor Presidente, signori del Governo, non andremo da nessuna parte, non possiamo continuare a indebitarci. E allora, e concludo, mi auguro che venga presa pure in considerazione la moneta fiscale che finalmente vengono discusse in Commissione Finanze, i disegni di legge trasversali che vogliono dare ai crediti di imposta la circolarizzazione della moneta per avere un mezzo che dia più risorse ai nostri cittadini. Ringrazio e concludo dando e confermando l'assenso di Fratelli d'Italia allo scostamento di bilancio.